Dobbiamo affidarci a Dio anche nei momenti bui, anche se non capiamo a volte la storia che fa con noi, ma è sempre storia di salvezza. Lo ha detto Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a casa Santa Marta, parlando della genealogia di Gesù. E così passo a passo si fa la storia. Dio fa la storia, anche noi facciamo la storia. E quando noi sbagliamo Dio corregge la storia e ci porta avanti e avanti. Sempre, camminando con noi. Se noi non abbiamo questo chiaro, mai capiremo il Natale. Mai capiremo l'incarnazione del Verbo. Tutta è una storia che cammina. Padre, è finita questa storia con il Natale? No. Adesso ancora il Signore ci salva nella storia. E cammina col suo popolo. Che Dio cammina con noi. Che Dio fa storia. Che Dio ci mette alla prova. E che Dio ci salva nei momenti più brutti. perché il nostro padre è il secondo Paolo e il nostro papà. Che il Signore ci faccia capire questo mistero del suo camminare col suo popolo nella storia, del suo mettere alla prova i suoi eletti e la grandessa di cuori dei suoi eletti che prendono su di sé i dolori, i problemi, anche l'apparenza di peccatori, Gesù pensiamo, per portare avanti la storia. Gesù pensiamo, Grazie a tutti